Partenza finalmente dell'assistenza territoriale. Siamo certamente a buon punto perché, come avete già letto da molte fonti di informazione, noi comunque abbiamo tutto quello che sono i programmi e le previsioni per quanto riguarda la spesa e la definizione delle case di comunità, degli ospedali di comunità e delle COT già a buonissimo punto. Siamo tra i primi in Italia, di questo veramente sono orgogliosa e non posso che ringraziare di cuore l'impegno dei collaboratori dell'assessorato che hanno davvero fatto di tutto perché si potesse arrivare a questo. Io mi trovo spesso ad avere richiesto di andare ad inaugurare strutture che si aprono. Il territorio è la vera grande risposta ad una domanda di assistenza perché gli ospedali si dovranno occupare, si devono occupare di quello che è la grande urgenza, di quello che è l'alta intensità di cura. Tutto il resto deve essere fatto quanto più possibile in prossimità del paziente. Dobbiamo portare noi l'assistenza ai pazienti, non devono venirla a cercare loro. Fondamentalmente la nostra che è una regione in piano di rientro ovviamente non riesce da sola a portare avanti questo genere di progetti. Il fatto di avere questo supporto che viene dal piano nazionale di resilienza ci potrà aiutare ad accelerare i percorsi per la definizione e l'avvio.